Il futuro si chiama energia da fonti alternative, anzi il presente, perché rappresentano ormai una realtà oltre che una vera e propria esigenza. Per questo Confapi Calabria ha siglato un accordo con Enea, ovvero l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e ha organizzato una serie di incontri con imprenditori, istituzioni e amministratori e grande attenzione è stata data alle biomasse. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il nostro patrimonio ambientale per migliorare ed aumentare la produzione energetica del nostro territorio. Abbiamo tutti gli elementi, abbiamo il sole, abbiamo la parte dei fiumi, ma abbiamo anche il patrimonio boschivo che è fondi di energia, scarsamente utilizzato. La contraddizione è forte che la regione, essendo il primo patrimonio boschivo nazionale, importa la legna dall'estero. Questa è una contraddizione anche nazionale, considerando che l'Italia è un paese che esporta eccellenza nel settore del legno, ma importa la legna da fuori. È una contraddizione che non regge in un sistema produttivo. Il nostro obiettivo insieme ad Enea è quello di eliminare queste contraddizioni. La gestione migliore del patrimonio boschivo presente in Calabria, utilizzandone al meglio la biomassa, cosa che porterebbe vantaggi per l'economia locale, per la protezione dei boschi, per la stabilizzazione della rete, perché le centrali biomassa sono programmabili, diversamente dal fotovoltaico, dall'eolico, fonti aleatorie non programmabili. Allora, è un discorso sicuramente interessante che interessa l'Enea a fine energetica, a fine di studio, a fine di previsione futura per la stabilizzazione della rete. Con Fabi è interessato ovviamente perché rappresentando imprenditori che operano in questo settore, che sono in numero cospicuo, con protocolli adesso anche di legalità, che tutelano anche la bontà della filiera dal punto di vista sociale, dal punto di vista della sicurezza, dagli attacchi esteni, diciamo, fa per vedere per il futuro uno sviluppo della possibilità di utilizzazione. Tutto deve essere visto nell'ottica della sostenibilità, cioè la raccolta della biomassa deve essere fatta in maniera tale da dare il tempo affinché il bosco o il terreno rigeneri la materia prima, quindi tutto deve essere appunto nell'ottica della sostenibilità del terreno, quindi significa anche curare il discorso della fertilità, quindi non soltanto asportare e basta, ma cercare di rimettere per esempio concimi e così via nell'ottica dell'economia circolare.